Buongiorno a tutti e benvenuti a Progetto Razzia. Oggi parliamo della guerra tra Israele e la Palestina. In realtà il video l'ho già girato, poi si è cancellato per sbaglio, quindi se viene bene altrimenti questo video non lo facciamo. Se lo vedete vuol dire che ce l'abbiamo fatta. C'è la possibilità che si allarghi questo conflitto, cioè c'è la possibilità che oltre a esserci questo conflitto tra Israele e la Palestina possa allargarsi, possa coinvolgere gli attori lì vicino o no? No, questa è una domanda a mio avviso interessante che proviamo a sviscerare qui e proviamo a vedere quali possono essere i costi esterni di questa guerra. Dal punto di vista militare, a mio avviso il calcolo di Israele che il conflitto non si allargerà in maniera imprevedibile ma se si allarga, si allarga molto poco e poi vedremo come, è perfettamente razionale. Ora vedremo perché. La scommessa di Israele sul non allargamento è militarmente parlando molto sensata. Il costo esterno della guerra ci sarà, sarà soprattutto politico e tra l'altro in larga parte lo pagherà l'Occidente e non Israele. Israele, dopo aver letteralmente proceduto a svuotare Gaza, operando in senso stretto una pulizia etnica, nel senso che ha sgomberato di un'intera etnia uno spazio, ha deciso ora di entrare letteralmente a Gaza. In realtà, più che entrare, come si intende in senso strettamente militare, sta facendo sortite, cioè entra, cerca di ottenere un risultato tattico e poi apparentemente esce e non sta tenendo le posizioni. Probabilmente vedremo questa cosa più avanti. Una cosa che è interessante è che dal punto di vista strategico, Israele sembra essere riuscita a annullare un grande vantaggio, teoricamente, di terreno che aveva Hamas e che avevano in generale i resistenti palestinesi. L'ambiente urbano è, assieme all'ambiente della giungla, l'ambiente che è più in grado di minimizzare i vantaggi di un eserso tecnologico e in particolare di minimizzare i vantaggi dell'aggressore, aumentando di moltissimo le capacità della difesa. Israele sta minimizzando questo svantaggio di contesto, semplicemente rendendo questo contesto non un contesto urbano, ma in un contesto posturbano, cioè letteralmente distrugge o sgombera interi segmenti di territorio fino a che effettivamente non ci sono più civili e comunque quei pochi che ci sono possono essere ignorati e quindi procede eliminando e distruggendo tutto. Quindi in realtà il vantaggio teorico di Hamas in questo momento, cioè questa capacità di assorbire l'urto che hanno gli ambienti urbani, sta venendo relativamente minimizzata. Israele è entrata a Gaza, pur con queste sortite, ma comunque è entrata, nonostante gli USA fossero dichiarati piuttosto preoccupati del possibile allargamento del conflitto. A mio avviso, militarmente parlando, il calcolo di Israele è corretto. Cioè i paesi che circondano Israele sono divisi tra paesi le cui elite non vogliono conflitti con Tel Aviv, come l'Egitto e la Giordania, non importa cosa vuole la popolazione, sto parlando di elite, cioè di decisori politici, i paesi che potrebbero anche essere teoricamente con elite propense ad entrare in guerra con Israele, ma che sono piegati da anni o decenni di guerre e di tensioni, come la Siria e il Libano, che non possono offrire una minaccia militare plausibile all'esercito di Israele. Hezbollah, l'attore militare lì attorno, probabilmente più rilevante e anche più propenso a entrare eventualmente in un conflitto con Israele, è un attore militare di tutto rispetto, nonostante i numeri non siano enormi, ma è una struttura pensata per una guerra di difesa, per opporre una resistenza attiva, asimmetrica, addirittura in certi casi forse simmetrica all'esercito di Israele, ma l'idea di commettere un'offensiva in maniera funzionale richiederebbe tutt'altra organizzazione, tutt'altro mezzi che Hezbollah non ha, non che non possa fare un'offensiva sotto alcune condizioni, ma militarmente il costo non sarebbe assolutamente correlato ai risultati ottenuti. L'Iran è la sola forza regionale letteralmente in grado, in termini di numeri grezzi, di impensierire Tel Aviv, ma tuttavia non lo sta facendo e non lo può fare veramente, perché nel punto più vicino l'Iran dista più o meno a mille chilometri da Israele, quindi non ha davvero modo eventualmente di proiettare la propria forza militare verso Israele, e in ogni caso per farlo dovrebbe attraversare paesi che per ragioni diverse possono essere arresti o davvero non in grado di aiutare un'operazione del genere. C'è la Giordania, che ha un'elite sostanzialmente filo occidentale, quindi non accetterà mai, o l'Iraq e la Siria, ma che potrebbero non essere entusiasti all'idea di essere coinvolti in un ennesimo conflitto. In particolare logisticamente spostarsi mille chilometri nel deserto, in particolare nella zona irachena, significa fare un'operazione logisticamente molto complessa, molto lenta, e che rende quei mille chilometri un bel bersaglio per Israele, ed è molto difficile proiettarsi di mille chilometri in maniera sicura e in maniera funzionale. Sicuramente sarebbe un'operazione che non abbiamo mai visto fare, parliamo del cielo, non dico che l'Iran non possa farlo da un punto di vista astratto, diciamo che sarebbe una capacità militare che al momento nessuno gli sta riconoscendo. Merito peraltro a tutta la questione dei missili balistici, ricordo che i missili balistici in grado di raggiungere Israele probabilmente sono tra i 500 e i 2.000 in possesso dell'Iran e se sono armati di testate convenzionali non possono modificare un risultato militare, possono ottenere eventualmente un risultato politico in alcuni contesti, ma non cambiare l'esito di una campagna militare. Anche dando per scontato che gran parte di questi possa attraversare il fantomatico Iron Dome che effettivamente comunque gli israeliani stessi al momento hanno testato solo con non missili balistici e niente di paragonabile ai mezzi iraniani che in scioltezza possono aggiungere MAC-8 in su, fino anche a che mi pare a MAC-15 siano alcuni missili iraniani. Quindi niente di paragonabile a quello che sicuramente Israele ha fermato fino ad ora. Ma comunque anche se tutte queste 1.000, 2.000 testate andassero a segno, non è che stiamo parlando di qualcosa che può modificare un esito militare, può avere un risultato, una forma di pressione inserita in qualche contesto, ma non in una campagna militare, in una guerra in senso stretto. Quindi, fermo restando che bisogna essere cauti perché stiamo facendo analisi, usando le categorie strategiche occidentali e stiamo analizzando paesi e culture che non sono occidentali, apparentemente al momento, tecnicamente parlando, il calcolo di Israele sembra corretto. Al netto di un costo politico alto non ci sono davvero grossi rischi sul piano militare per Israele. Paradossalmente la scelta statunitense di portare due gruppi navali e non uno solo, a mio avviso, destabilizza il teatro più che stabilizzarlo e cristallizzarlo, però se forse gli USA smettano di accumulare truppe in quel teatro, la situazione potrebbe anche diventare accettabile. Dico che avere due gruppi può destabilizzare il teatro perché nella nebbia di guerra, nella mancanza di informazioni che ci sono, dove in politica e in strategia tu devi capire quello che succede, capire le intenzioni sulla base dei dati che hai, andrebbe esclusa la teoria o l'ipotesi che la classe dirigente iraniana si veda minacciata da, non uno, ma da due gruppi navali e che potesse pensare, ma non è che forse gli Stati Uniti, oltre alla guerra tra Israele e Palestina, stanno pensando a qualcos'altro. Se ci fosse stato un gruppo navale, a mio avviso la situazione sarebbe stata più logica dal punto di vista politico. Due gruppi navali è effettivamente curioso e capisco che parti delle classi dirigenti arabe lì attorno potrebbero fare dei ragionamenti un po' oltre quelli che stiamo facendo in questo momento. Comunque, sul piano militare, al netto della difficoltà, della durezza e delle produttazioni valoriali che ognuno di noi è liberamente in grado di fare, i calcoli di Israele, strettamente parlando, sono corretti. Anche se è una carneficina, o anche se fosse una carneficina anche per l'esercito israeliano, lo Stato ebraico, militarmente, apparentemente, non può che uscire da vincitori. Ripeto, militarmente. Sul piano politico è un po' difficile fare calcoli. Sicuramente un output negativo, enorme, verrà pagato da paesi terzi, in particolare dai paesi occidentali, che con la propria condotta si sono rappresentati di fronte al mondo islamico come degli attori politici inaffidabili per sempre, perché dopo anni a intervenire per motivi umanitari in mezzo mondo, a destabilizzare governi o a cercare di decapitare classi dirigenti per motivi umanitari, nessun governo occidentale abbia detto la minima critica nei confronti di come Israele sta muovendo la propria campagna. Non dico criticando l'idea della campagna stessa, non pretendo che il governo occidentale sia critico nei confronti della politica di Israele, ma che non abbiamo detto neanche mezza parola sui metodi, ci renderà agli occhi delle grandi masse islamiche e delle classi dirigenti islamiche come dei sostanzialmente gli alleati a fianco di questa guerra che agli occhi del mondo aramo e islamico sarà sempre una guerra di aggressione. Mi aspetto che ci siano delle conseguenze anche di medio livello, ad esempio in futuro mi aspetto che paesi come il Pakistan o come l'Indonesia, ad esempio, amplifichino di molto l'autonomia della propria filiera militare, vorranno essere sicuri in futuro di non dipendere da un occidente per procurarsi armi e per la propria difesa perché l'occidente oggi, agli occhi del mondo islamico, appare come un interlocutore apertamente anti-islamico. Non importa che lo sia, ma è plausibile che agli occhi loro lo sia. L'altra cosa interessante è un altro costo esterno che ricade quasi esclusivamente su di noi, sui cittadini del mondo occidentale. L'atteggiamento filo-israeliano delle classi dirigenti destrorse e sinistrorse e indifferente nel mondo occidentale ignora il dato che i milioni di immigrati che abbiamo importato negli ultimi decenni senza alcuna motivazione logica perché in larga parte non sono occupati e non hanno contribuito in alcun modo alla sicurezza dello stato sociale in cui sono stati assorbiti e sono sostanzialmente tutti anti-israeliani. Questo può generare motivazioni o problemi di natura sia di ordine pubblico, ma anche volendo di terrorismo e comunque finirà che le nostre società, le nostre periferie, ma anche la nostra quotidianità vivrà quella polarizzazione che noi in realtà non avremmo dovuto vivere se non avessimo portato in casa milioni di persone che hanno diritto di non avere la nostra visione del mondo. non possiamo chiedere alla fantomatica termine integrazione di entrare nel dettaglio e pretendere anche che un cittadino marocchino o un cittadino di discendenza marocchina, anche italiano e francese la pensi come noi in merito a Israele perché per un marocchino o per un egiziano Israele è qualcosa di diverso da quello che vediamo noi. Quindi questo paraculismo in cui dobbiamo essere a favore dell'immigrazione e però l'immigrato dovrebbe esserci in qualche modo riconoscente sarà una menzogna che ci scoprirà in faccia. Detto questo, sono molto curioso di vedere come le classi dirigenti occidentali si smazzeranno questo problema o semplicemente se lo ignoreranno e lasceranno che il problema caschi direttamente sulla testa dei cittadini normali come fanno di solito con questo genere di problemi. Ma sono curioso di sentire le vostre opinioni. Alla prossima razzia!